Fino all'8 marzo al Teatro Anfitrione, tutti pazzi per mamma. Luciana Frazzetto, una commedia brillante, anzi brillantissima, si ride dall'inizio alla fine. La gente esce che gli fanno male le mascelle. Questa commedia è stata scritta da Luca Giacomozzi, proprio su di me, sulle mie caratteristiche sia vocali, come vedete sono un po' afona, ma non solo, sulle mie caratteristiche artistiche ed è stata diretta da Massimo Milazzo, che tra l'altro ormai è un connubio che dura da circa 25 anni, non solo sulla scena ma anche nella vita, quindi noi ci facciamo del male sia dentro che fuori la scena. Da tutto ciò nasce fuori questo spettacolo che è esilerante al massimo. Luca ha scritto questa storia appunto su Marisa, che è questa mamma romana, verace, ironica, un po' fuori da testa, sbaglia le parole e deve dirigere un po' le fila di questa famiglia. È una famiglia dei matti, diciamocelo francamente. Un figlio bamboccione. Esatto, c'è un marito, un figlio e un'aspirante nuora. Adesso ti spiego, mio figlio bamboccione ha più di 30 anni, 35, 38, non me lo ricordo mai, perché ogni volta cambio l'età in scena, nel senso che lo faccio sempre più grande di quello che è, addirittura sono arrivata a 40, no? Perché dice, capirai dopo i 30 c'è un attimo, guarda tu padre. Perché questo figlio bamboccione che studia gli animali in via di estinzione e le piante rare, e non se ne vuole andare a casa perché sta benissimo, non fa niente dalla mattina alla sera, quindi voglio dire, studia e sta a casa. Mio marito, che appunto volevo dire però che è il mio figlio, lo fa Andrea Dianetti, che è un bravissimo attore, è uscito da amici, è veramente bravo. Quindi abbiamo una bellissima compagnia di bravissimi colleghi. Gianni Franco, che sicuramente tutti conoscete perché è un attore soprattutto di fiction, ma questo ruolo gli calza a pennello, nel senso che lui è un marito un po' succube della moglie, quindi succube di Marisa, è un esodato, è stato licenziato, non gli va a fare niente, è depresso perennemente, sta tutto il giorno in pigiama, non esce da casa da tre mesi, non fa niente dalla mattina alla sera, chi sta meglio di lui? Marisone è un'ex attrice. Sì, perché circa lei t'anni fa ha avuto questa cosa di fare l'attrice, gli è capitato di fare un film da protagonista molto molto importante, che si chiamava Marisona, la tettona è tutta nuda e tutta buona. E poi da quella volta però il marito ha detto che doveva scegliere tra la famiglia e la carriera, e io che ho scelto? La famiglia, guarda che bell'affare che ho fatto. E poi volevo anche parlare di un altro personaggio che arriva a un certo punto della commedia, che è un'aspirante nuora, se così vogliamo dire, che è Roberta De Roberto, interpreta questo personaggio un po' folle, ha studiato a dieci anni a Oxford, quindi parla un po' l'inglese che io ovviamente non capisco, e ha un piccolo problema, soffre di alitosi. E la commedia è molto molto divertente perché è un messaggio, un mix di tutte queste cose messe insieme, questi caratteri diversificati tra di loro, questi caratteri pazzeschi formano un'esplosione di comicità. E devo dire che Massimo Milazzo in questo è un regista che ormai mi segue da, dicevo, da oltre 25 anni, è un direttore d'orchestra che mette insieme tutti questi strumenti in maniera egregia, in maniera dinamica, è come avere in mano un telecomando, no? Perché lui dice sempre, noi vediamo la televisione e cambiamo continuamente canale, la gente non può donamentarsi a teatro, quindi con sta scusa c'è massacra, però il risultato è ottimo. Se c'è una morale in questa commedia, come esce lo spettatore, con quale pensiero? Allora, non posso svelare il finale, però lo spettatore ha riso per un'ora e mezzo e alla fine ha proprio l'occhio languido perché avviene una cosa nella commedia e Marisa li fa anche così piangere, se vogliamo, tra virgolette, li fa commuovere. Tutti pazzi per mamma. Grazie. 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 Grazie.